Un microfono davanti, sto pronto ad attaccare Trappi neppi e cenocchi, non posso sbagliare Il rap è la mia droga, la mia vita è il mio stare Pietro all'intervista, pronti a ricordare Le strade di questo sport sono piene di ostacoli Ma la mia fede e la mia passione sono incredibili Studio, set e tv, l'avventura è iniziata Le mie rime taglienti come una lama affilata Le mie rime taglienti come una lama affilata Studio, set e tv e sport picciano game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Siamo nati presi male Siamo gatti neri in mezzo alla strada Quando non sai se attraversare Tanto è uguale Tanto ci alzeremo tardi con la sveglia Che non smette di suonare Benvenuti alla nuova puntata Abbiamo ospite una band In questo caso abbiamo due membri della band Ilicra A questo punto per chi non vi conosce Ma chiaramente tanti poi nel tempo vi conosceranno Se dovessi descrivere oggi chi sono Ilicra E come sono cresciuti Come le iscriveresti Parto io Marco Allora sì Sono un'idea di un po' di amici fondamentalmente Perché noi siamo prima di tutto degli amici Il gruppo affonda le radici nel 2018 In grosso modo Era quello l'anno in quale ci siamo parlati Abbiamo detto di voler portare su un gruppo Creare un gruppo da zero Piano piano poi le formazioni sono cambiate Diciamo che io Marco e Fabio il tastierista Siamo i componenti diciamo originari fondamentalmente Mentre Federico il batterista e Valerio Si sono aggiunti nell'ultimo anno Il gruppo nel corso del tempo è cambiato molto Arriviamo da un'idea soprattutto di musica rock Quindi anche che affonda le radici insomma nel rock italiano Quello un po' più classico Mentre adesso ultimamente Soprattutto con gli ultimi due lavori Abbiamo portato il gruppo più su una direzione di pop E di indie Probabilmente questo è il genere Che un po' più ci rappresenta in questo momento Nando parliamo dell'ultimo singolo Il cielo in una scatola Prende dall'idea Il cielo in una stanza Oppure una citazione di un vecchio programma radiofonico Perché è retro C'era un personaggio che l'aveva in un armadio E citava il cielo in un'anta Ma quando nasce questo brano Da cosa tra ispirazione Come si è sviluppato per ottenere questo risultato poi? Allora è un brano che è nato In origine l'ha portato Davide L'ha portato in sala prova Aveva questa idea musicale Aveva anche un'idea di testo Ma era ancora vago Non aveva ancora un'identità chiara Abbiamo iniziato a lavorarci sopra Tendenzialmente Spesso scrivo io le parole dei nostri brani Ho iniziato a lavorarci parecchio Ma non veniva fuori un ritornello Ogni bozza che scrivevo non era soddisfacente Poi Davide ha tirato fuori questo ritornello Che a me ha convinto subito Ha tirato fuori questo ritornello di getto Che era perfetto per il significato della canzone E il titolo che appunto Il cielo in una scatola Racchiude un po' il significato del brano Ovvero il brano parla di due persone Che si sono allontanate E che non si parlano più Nonostante si vogliano molto bene Continuano a versi bene Continuano magari a cercare di sapere Che fine ha fatto l'altro E quindi è come mettere qualcosa di così bello Da parte Pensiamo proprio all'idea della scatola dei ricordi E quindi l'idea di mettere il cielo Che è una cosa immensa Che è una cosa stupenda Dentro una scatola Metterla dentro una scatola Chiuderla e metterla via Poi soltanto dopo In realtà è venuto È venuto fuori questa Questa somiglianza appunto Col titolo dell'altro brano Il cielo in una stanza E abbiamo deciso appunto Risfruttarla proprio nel titolo Abbiamo deciso che quella parte della canzone Fosse poi il titolo della canzone Però le parole sono venute da sé diciamo Non c'era un collegamento diretto E invece in questo caso la copertina Un pochettino dovrebbe racchiudere tutto questo significato C'è questo bambino in realtà Sì È un ragazzo praticamente che ha posizionato sopra la testa Una scatola un po' per coprirsi Un po' per nascondersi Ma anche secondo noi un pochettino Anche per rivivere certe esperienze Perché una buona parte del testo Si parla di un rapporto fra due persone Che si ritrovano dopo tanto tempo E nell'idea di fondo È come quando non ti vedi da tanto tempo Con un amico Un amico di infanzia Una persona con cui sei cresciuto Con cui hai passato tante esperienze E poi dopo diverso tempo Hai modo di rincontrarle Di raccontarti Di rievocare insomma tutte quelle esperienze Tutto ciò che è accaduto in passato E quindi fondamentalmente ritrovarti Diciamo che proprio nel nostro immaginario C'era proprio quello C'era proprio l'idea dell'amico di infanzia Di infanzia e dell'adolescenza Comunque quella conoscenza spontanea E quindi ci piaceva l'idea di questo Appunto essendo dietro una scatola Dentro la scatola Può essere veramente chiunque Perché è un ragazzino Una ragazzina È più piccolo È un po' più grande Veramente perché racconta in realtà Le storie un po' di tutti Quelle esperienze adolescenziali Che tutti noi abbiamo vissuto E che poi tante volte Vengono ricordate con nostalgia Con malinconia Malinconia un po' diciamo È un po' un filo rosso Che torna in tanti dei nostri brani E in questo caso Anche quando magari I rapporti vanno avanti Quindi anche quando l'amicizia Si mantiene O l'amore si mantiene Eccetera Comunque Quel periodo della vita Dove tutte le cose sono nuove Dove tutte le cose Si fanno per la prima volta Dove tutte le cose Sono sensazionali Infatti anche questi aspetti Per esempio Il discorso dello stadio Mille mani in aria Sono tutte immagini Che quando Quelle cose Che quando le fai Per la prima volta Sono stupefacenti Sono pazzesche Quindi ci piaceva ricordare Quella dolcezza Quei ricordi dolci Dell'adolescenza Dell'infanzia Ecco E anche l'utilizzo La fotografia Che poi ha un stile retro Un po' questi colori Non accessivi Ma Soffusi come se fosse Una foto Più che Degli anni 2000 Fosse una foto Negli anni 90 E forse anche questo E forse anche questo Rappresenta L'immaginario Sì Perché voleva Vole proprio essere una foto Cioè una foto Anche magari ingiallita dal tempo È proprio un ricordo Anche perché poi anche lì Nel ricordo Noi facciamo selezione Cioè il ricordo Non è mai La realtà Cioè il ricordo Ha già un filtro Che è il nostro La nostra sensibilità E quindi tornando indietro nel tempo Con la mente Noi Dipingiamo di nuovo Questa Quello che è accaduto E quindi diciamo L'idea è proprio Quello della foto Cioè Non è un momento reale Quello che Quello che rappresenta la copertina Ma è un ricordo È proprio un ricordo È qualcosa che è stato Ma è stato secondo me Secondo Davide Secondo chiunque Secondo La persona che vive Con il ricordo Quindi Nella realizzazione Dei vostri brani In questo caso Perché voi Spaziate Abbiamo detto Siete partiti dal rock Siete passati al pop In realtà Nei vostri brani Anche Nell'EP precedente Ci sono altri generi Perché Avete Spaziato In molto Per te Nasce prima un testo Prima nasce un beat Oppure Possiamo dire Che accidentalmente E casualmente Possono nascere insieme Sì 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 assolutamente Dipende Insomma In alcuni casi Siamo fortunati E viene fuori Un'idea musicale O un'idea di testo Solida E su cui si può lavorare E in quel caso Dopo il lavoro È molto più facile In altri casi Invece Ci stiamo dietro Per settimane Se non mesi Prima di tirare fuori qualcosa Nel primo EP Avevamo In comune Il fatto Di affondare Tutti noi Le radici Praticamente Nel rock italiano Quindi arrivavamo Tutti da quella direzione Lì Avevamo delle idee Abbastanza chiare Sui tipi Di brani Da portare Da come poterli sviluppare Adesso invece Il discorso È diverso Ci stiamo divertendo Tanto Nello sperimentare Nel portare Idee nuove Che vanno Quindi strizzano Un pochettino Più l'occhio Verso l'Indie Verso il pop italiano Di adesso Ma insomma C'è distanza Insomma Fra le due fasi Del lavoro Sì Tendenzialmente In generale Prima partiamo Dalla musica Anche perché Concettualmente Ci piace l'idea Che facciamo musica Quindi diciamo Che è il suono Che richiama Prima ancora Della parola E poi lavoriamo Magari sul testo Spessissimo Ci capita però Di partire Con una melodia Che si porta Dietro delle parole Perché quella melodia Arriva magari appunto Da una storia Arriva da un ricordo E poi ecco Ci si Ci si lavora Ci si lavora molto Io credo che La direzione In cui stiamo andando Adesso Sia un pochino Più intima La sensazione Che ho Anche quando scrivo I testi Rispetto a quando Li scrivevo prima E la necessità Cioè il fine Per cui li scriviamo Adesso è molto Più Spontanea Cioè Di cosa voglio parlare Cioè Cos'è che voglio raccontare Voglio parlare Di questa storia E quando la racconto Non c'è Una ricerca Di un'estetica Di qualcosa Che deve apparire Ma è un racconto Che è esattamente Quello che appunto Abbiamo vissuto O una storia Che vogliamo raccontare Così com'è E stiamo Diciamo che Questa libertà Che ci siamo presi Questo andare Oltre E uscire un po' Dai stereotipi Del rock In realtà Ci aiuta A essere molto più liberi Anche nella produzione Nello sperimentare Un suono nuovo Uno strumento nuovo Un testo nuovo Anche dei temi Nuovi Perché poi anche lì L'italiano Spesso Ce ne accorgiamo scrivendo Non si presta A tutte le tipologie Di musica Particolarmente Anzi si fa tanta fatica Il rock Non si presta A tutte le tipologie Di significato Allo stesso modo Chiaramente il rock Parla di tutto Però Alcuni temi Sono più Facili da toccare Con un brano rock Piuttosto che altri Invece questa libertà Di spaziale Che ci siamo presi Ci sta piacendo molto Ecco Invece Nei testi Previti a essere Un po' più Come nell'italiano Longevi Descrittivi Molto Descrittivi Oppure come nell'inglese Dove L'essenziale Il sintetico Rappresenta Un po' più L'immagine E Da un pochettino Anche più Di fantasia Di chi ascolta Qui risponde Marco Qui Mi passa La domanda In realtà Dipende Io sono uno Molto Celebrare Tendenzialmente Quindi magari Nella mia testa Voglio raccontare Una storia E comincio a scriverla Magari è proprio Una storia Che va da A Z Però appunto In questo arco Narrativo Che c'è nella mia testa Non ci sono immagini E l'immagine Però è fondamentale Perché l'immagine È la cosa immediata È la cosa che È come un profumo Basta un profumo E ti ricorda Una persona Un posto Un anno Un evento Un accadimento Perché è proprio Questa È il livello sensoriale Che ci ricollega Che ci connette Gli uni con gli altri Non possiamo Emanare profumi Attraverso Spotify E quindi Diciamo che Il mezzo migliore Per comunicare Un messaggio emotivo È quello dell'immagine È quello del ricordo È quello che È un'immagine Che rappresenta Io per esempio In questo ultimo brano Il phantom A benzina Da spingere Perché è una cosa Che c'era A me per esempio E ai miei amici Era capitato molto spesso Perché Non c'erano sempre Pochi soldi Per adolescenti Pochi soldi Per le mani Per le mani Quindi soldi contati Quindi la benzina Sempre Il motorino Sempre in riserva Il mio migliore amico Aveva un phantom E più volte è capitato Che appunto Io o lui Dovessimo per marcia Spingere il motorino Perché era finita la benzina O perché si era staccato qualcosa Quindi diciamo Che è un'immagine Che chi ha quel tipo di vissuto Ricorda E non servono tante parole Cioè quel phantom A benzina Da spingere Non è un phantom A benzina È tutto un immaginario Che si porta dietro Se invece avessi dovuto Spiegarlo a parole Avrei avuto bisogno Di un'encircopedia Ecco Tutto quello che ho detto In questi cinque minuti Nella mia testa Stanno appunto In un phantom A benzina Da spingere Per quello che le immagini Poi Quando comincio a scrivere Dico Ok bellissimo Questo concetto Però adesso mi serve un'immagine Perché altrimenti Non riesco Non riusciamo a comunicarlo E invece a questo punto Parlando dal vivo Perché Ovviamente Suonate dal vivo Qual è la vostra sensazione Salendo sul palco Poi davanti Avete un pubblico Che vi ascolta Inizialmente E poi è silenzioso Perché È titubante Comunque Vada Cerca di comprendere Quindi È un Quell'energia Che sale Piano piano Che vi può trasmettere Anche se voi siete concentrati Tesi Però Quell'energia Un po' La sentite Che poi Ritrasmettete Voi Quando partite Con le prime note Ritrasmettete Quell'energia Qual è la vostra sensazione A quel punto Stare Stare sul palco Per me È la cosa più bella In assoluto Cioè nel senso Io ci starei Ci starei Tutti i giorni Poi tra l'altro Io sono una persona Estremamente timida Quindi Paradossalmente Questa è una cosa Che può sembrare Un po' strana Però nel momento In cui salgo sul palco Mi diverto E sapere Accanto a me Prima di tutto Degli amici Sono una seconda famiglia Per me loro E dei musicisti Comunque bravi Ci permette Insomma Di esprimerci Benissimo Quindi Come hai detto Poi nel momento In cui iniziamo A suonare le prime note Ci iniziamo a divertire E speriamo Di insomma Di far divertire Ed emozionare Anche chi Chi ci ascolta Nel mio caso È curioso Perché è un po' Il contrario Nel senso Che io sono una persona Estremamente estroversa Nella vita Però E questa è una cosa Che credo Mi accompagnerà sempre Io Oltre a A cantare È recito anche Quindi mi capita Anche di salire Su parco Cerici teatrali Ogni tanto La prima emozione Che provo È terrore puro Proprio terrore Sarà anche Comunque Sendo un po' Al frontman Ho anche paura Di non so Incespicare Dire una frase Sbagliata Dire no E poi soprattutto Il mio ruolo Tante volte È quello di fare filtro Nel senso Che magari C'è un problema E Quindi bisogna Risolvere una cosa E io devo Cercare Di coinvolgere Il pubblico Intrattenere Magari Finché questa cosa Non la risolviamo Quindi c'è il cervello Sempre diviso in due Così come devo Pensare alla melodia Ma anche al testo È sempre una Quindi Il primo momento È quello di Controllo Di paura Che però Mi porta Dopo i primi minuti A godere Dell'evento Perché poi appunto Anche il pubblico Ti dà tanto Indietro E noi abbiamo Suonato veramente Nei posti più disparati Cioè Nel contesto Molto piccolo Dove magari Ci sono tante persone Che ti conoscono E vengono lì Per ascoltarti Nel contesto Invece magari Un evento musicale Dove ci sono persone Esperte di musica Quindi magari Hanno un giudizio Un po' più Di un certo tipo Però sono attenti Alla desecuzione Invece proprio Anche nel contesto In cui tutti stanno lì A divertirsi Magari parlano tra di loro E tu puoi suonare Qualsiasi cosa Magari ti ascolta uno Ogni tanto Quindi abbiamo suonato In tanti contesti diversi Però ecco Il rapporto col pubblico Sicuramente È la cosa che Se prima fa paura Poi ti dà tanto Ti dà tantissimo E poi sì È un gioco Chi viene poi Ai nostri Ai nostri Ai nostri live Vedi a me piace tanto Parlare proprio In generale Davide me lo dice sempre Ma mi piace parlare Anche col pubblico Raccontare delle canzoni E quindi è uno scambio Non è mai Una Unidirezionale La comunicazione Durante una serata E poi quando smettete Incontrate queste persone Perché chiaramente Si incontrate E vi guardano Soprattutto quelle persone Che in realtà Non l'avete mai visto Nei vostri live Però Le vedete con quella faccia Soddisfatta O contenta O rilassata Felice Ma soprattutto Che sono state lì Attente Ad ascoltarvi Perché vi sei accorti Che effettivamente Hanno seguito A tutto E vi fanno Vi dicono qualcosa Di particolare Oppure C'è qualcosa Di particolare Che vi hanno detto O in quel caso Che sensazione Provate Nell'accoggervi Che siete arrivati A colpire le persone E reagire E dargli quelle emozioni Particolari Beh sicuramente La sensazione La sensazione più bella È quando Confrontandoti Con le persone Dopo essere Sceso dal palco Quindi dopo aver Terminato la serata È quello di Confrontarsi Sui temi Dei brani Soprattutto dei tuoi Noi perché All'interno Della nostra scaletta Che portiamo Nei live Abbiamo una parte Dedicata Ai nostri brani Chiaramente Un'altra parte Invece dedicata A delle cover O comunque A degli omaggi Di artisti Che ci piacciono In modo particolare Nel momento in cui Ti interfacci Con qualcuno Che ti ha ascoltato Ha ascoltato Il tuo brano Ha capito Anche quello Che vuoi dire Ci si rispecchia Ci si ritrova E lì inizia Anche uno scambio È quella È veramente bella Come sensazione Sottoscrivo È esattamente Esattamente questo Sì E invece Ci sono artisti In cui Mi senti un po' Portati dietro Perché involontariamente Anche perché A forza Di ascoltare Uno non è che Lo ruba Ma involontariamente Ti porti un pochettino Quel riff Oppure quella Capacità di Scrivere O di impostare Il suono Sì Allora Nel precedente Lavoro Ci piacevano tanto E ci continuano a piacere Ma abbiamo preso Tantissimo spunto Da Eme Gramaro Che è un gruppo Insomma storico Un gruppo italiano Storico Sono clamorosi Quindi nel senso Abbiamo preso tanto Da loro Personalmente Negli ultimi Lavori Ho cercato di rubare Qualcosina Ad un altro gruppo Italiano Chiamato Fast Animal And Slow Kids Un gruppo Di ragazzi Della nostra età Ma Molto Insomma Abbastanza conosciuto In Italia Nel mondo Soprattutto dell'India E dell'Alternative Abbiamo cercato Di riprendere Qualcosina da loro Sia per quanto riguarda La scrittura Sia per quanto riguarda Il tipo di musica Ma poi in generale Si cerca di Rubare qualcosa Un po' da Un po' da tutti Ci piace molto Anche per dire Paradossalmente Dua Lipa Che c'entra Relativamente poco Con quello che facciamo Ma da cui c'è Da prendere tantissimo Come anche per esempio Coets Oppure The Colors Per esempio Quindi dipende Un pochetto Dipende da quello che vuoi In che direzione vuoi portare il brano Cioè ci sono tantissimi artisti Soprattutto in Italia Da cui poter Prendere molto Poi diciamo Che il vantaggio Dell'essere un gruppo È proprio questo Che sono Cinque teste E quindi A volte ci sono dei Cioè A volte è veramente Complicato lavorare Perché No io la penso così La penso quella Anche se devo dire Che nell'ultimo periodo Abbiamo trovato Abbastanza Un'intesa musicale Ed è un po' quella La fatica Che si fa all'inizio Cioè il capire Anche col cambio di formazione Ogni volta bisogna Un po' rimettersi A tavolino E invece adesso Parliamo Ci siamo abbastanza Intesi Da quel punto di vista Però la cosa forte E lo era anche prima Uno è che Se uno arriva con un brano Magari che Nella sua testa Funziona in un certo modo Poi spesso Confrontandosi Capisce che Può migliorare Cambiando delle cose Quindi magari Anche se io Davide o altri Siamo magari un po' Anche No Perché uno poi Quando uno porta un lavoro Artistico È un po' come Se fosse tuo figlio Un tuo prodotto È anche una cosa intima Tu ti stai aprendo Quando porti Soprattutto alle prove Perché Se il pezzo finito È la canzone Che è stata in studio Mixata Con Non lo so 70 ore di lavoro Quello lì È proprio un embrione Che anche all'ascolto Non è bellissimo Quindi anche portarlo In sala prove Uno un po' si espone Però Tendenzialmente Lavorando insieme Poi la produzione Migliora E soprattutto Ci si confronta Anche con Background diversi Perché Per quanto tutti quanti Più o meno Abbiamo un background Abbastanza rock A parte Fabio Trasterista Che per esempio Però arriva tutto Da un Da dell'atmosfera Disney Le colonne suonare dei film Pop italiano Quindi Quando poi ci confrontiamo Abbiamo tutti Un ascolto diverso E riusciamo a capire meglio Quale Delle varie versioni Quale Delle varie ipotesi È quella Che potrebbe funzionare Funzionare di più Quindi Diciamo che in questo caso Essere un gruppo Può essere un svantaggio Ma È una grande risorsa E invece Parlando Dell'ultimo disco Cioè l'ultimo singolo A questo punto Ritornando Sull'ultimo singolo Qua Una volta Finita la registrazione Chiaramente Voi l'avete ascoltata Nella registrazione Quindi avete Ognuno sentiva La sua voce E sentiva il suo lavoro Cioè quello che suonava Ma poi Ascoltarlo Nella composizione Nel messaggio finale E vedere La faccia Di quelle persone Che stavano avanti A voi Che ascoltavano Insieme a voi Per la prima volta Quel brano Quest'ultimo brano La vostra sensazione Vedere Più che Ascoltare le loro parole Vedere le loro facce Qual era stata La vostra sensazione A quel punto Beh la sensazione La sensazione È stata Super positiva Perché comunque Portare un brano Come dice Marco Che è un embrione E poi arrivare Al lavoro Al lavoro Finito C'è un abisso C'è una differenza Grandissima Colgo l'occasione Per salutare E ringraziare Alex Accorsi Che è il nostro produttore La persona con cui Abbiamo lavorato E che ci ha dato Una grandissima mano Nella scelta dei suoni Nella composizione Nell'arrangiamento Del brano Quindi senza di lui Non sarebbe Non sarebbe uscito fuori Un lavoro di cui Siamo super soddisfatti E poi certamente Riascoltandolo E facendolo Ascoltare anche A persone vicine Perché poi La prima cosa che fai È lo giri Alla ragazza Lo giri Alla famiglia Lo giri Agli amici Più stretti Di cui ti fidivi più E ricevere Insomma Le loro Responsi Le loro Le loro sensazioni Quello è Molto È gratificante Molto gratificante A riguardo Mi viene in mente Proprio Un ricordo Specifico Che è stato appunto Il giorno Dell'uscita Del singolo Abbiamo fatto Questa serata In un locale Di Asplipo Per la promozione Del singolo Dell'uscita Ed era la prima volta Che la suonavamo Davanti a Un pubblico Tra l'altro L'abbiamo suonata In una versione acustica Quindi era una cosa Ancora diversa Però era comunque Quel brano Che era appena uscito E la sensazione È stata Bellissima Perché Perché Se magari Gli altri brani Alcuni Magari L'hanno già sentito E quindi Hanno una reazione Che Che è legata Magari a un loro background Con quel brano Che può essere Mille volte Due volte Tre volte Ma non è niente di nuovo In quel caso C'era l'attenzione Del sentiamo Che cosa Che cosa stanno facendo Sentiamo questo nuovo brano Perché appunto Era nuovo E la risposta È stata molto positiva Cioè C'era molta partecipazione E c'era una grandissima Attenzione Per quanto riguarda Sia la musica Che il testo E quindi È stato molto Molto bello È il commento Che vi ha sorpreso O in positivo O in negativo Perché A volte Le critiche Cioè I commenti Possono essere Sembrare positivi In realtà Poi Ti accorgi Che erano negativi Qual è C'è qualcosa Che vi ha sorpreso O Comunque vada Vi ha lasciato un po' Titubanti Ma in realtà Poi Mi si è accorto Che Era un complimento Fatto male Ma era un complimento Allora Mi personalmente Personalmente Mi ha scritto Un esperto Insomma Di musica Quindi Un addetto ai lavori Diciamo Che Ci conosceva Per quello Che avevamo fatto Precedentemente Che Ha avuto modo Di riascoltarci Con l'ultimo lavoro Facendoci Complimenti Però ci faceva Anche Notare Che c'erano Soprattutto Tanti margini Di miglioramento Quindi Come per dire Avete fatto un passo in avanti Che si sente Ma potete fare Molto di più E ci ha indicato Quei 4-5 aspetti Su cui Poter Lavorare meglio Quindi Diciamo Pur avendo ricevuto Fra virgolette Una critica Allo stesso tempo Io personalmente L'ho presa In maniera molto positiva Perché c'era C'era un orecchio attento C'era C'era una persona esperta Dall'altra parte Che ci giudicava Per cui era una critica Costruttiva Invece Per quanto riguarda Il commento positivo Il giorno dopo L'uscita Dell'ultimo brano Una mia amica Mi ha Mi ha mandato Un messaggio Su Whatsapp Con le prime parole Del ritornello Dicendomi praticamente Che ci si rivedeva Tantissimo Cioè Quello che Cercavamo di esprimere Insomma Nel ritornello del brano Lei ci si rispecchiava Molto Quindi anche lì E' stato gratificante Sì Situazioni particolari Di commenti Positivi strani O negativi Che poi si rivedevano Positivi Non mi sono Non mi sono Capitate Però È stato Tutti La maggior parte Dele persone A cui l'ho fatto sentire Hanno notato Questo Questo cambiamento Anche Anche appunto Proprio nella scrittura Anche di stile Il genere Anche la tematica È stata molto Apprezzata Quindi Ho ricevuto abbastanza Commenti positivi Poi in realtà Quello che mi interessa Di più È Se arriva Il Il messaggio Della canzone Perché alla fine Di quello Si parla Perché poi Ci sono Ci sono Delle volte In cui magari Produciamo una cosa E diciamo Cavoli Questo aspetto Dobbiamo curarlo meglio Questo aspetto Doveve uscire In quest'altro modo Quando abbiamo prodotto Questo brano Alla fine Eravamo abbastanza Sorisfatti di tutto Anche perché comunque Uno deve tenere in conto Di tantissimi aspetti È chiaro che Se uno può produrre Un album Con due milioni E stare Due mesi Chiuso in studio E fare un certo tipo Di lavoro È chiaro che Ha un certo tipo Di standard Anche In posti magari Invece Nel nostro caso Eravamo molto soddisfatti Del lavoro Che eravamo riusciti a fare Da noi Perché comunque È un'autoproduzione E siamo molto contenti Del risultato E devo dire Che questo risultato Ha fatto sì Che le persone Si concentrassero Sul brano Ed è arrivato abbastanza Che è la cosa Che mi fa Che mi fa Più Più felice A questo punto La domanda viene spontanea Progetti futuri Oltre che Continuare a suonare Al vivo E promuovere il disco Questo singolo Abbiamo Altri Brani in cantiere Quindi Abbiamo Un brano Che praticamente Anche questo Sta In fase di In fase di lavorazione Sta per essere terminato E che abbiamo Intenzione di pubblicare Per l'estate Quindi il prossimo Lavoro Sicuramente sarà Questo brano Questo brano estivo Diciamo Poi abbiamo Mille altri brani Da portare avanti Siamo abbastanza Focalizzati Sull'obiettivo Abbiamo diverse date Che stanno venendo fuori Per quest'estate Quindi questi sono I prossimi passi Insomma Per Per il 2024 E invece No no Procedi Ascoltavo No 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 Cioè appunto L'idea Sarà anche Quella di Abbiamo Abbiamo Tanto materiale Perché poi Ecco Uno sta lavorando Su un brano Ma appunto Quel brano Un brano solo Magari richiede In fase di produzione Magari due mesi di lavoro Nel frattempo Vengono fuori Magari delle altre idee Quindi abbiamo Magari Quel ritornello E quella strofa E quella Che piano piano Diventano brani Quindi abbiamo In realtà Tanto materiale Che ci piacerebbe Far ascoltare Penso che da qui A un anno Pubblicheremo Diversi Diversi singoli L'idea poi sarà Chiaramente Quello di pubblicare Anche un album Che li racchiude tutti Però l'idea Diciamo è L'obiettivo principale Adesso è Quello di far sentire Questi nuovi brani Perché ci raccontano E raccontano Noi adesso Raccontano Quello che Pensiamo ora Quello che Un po' Mi è dispiaciuto Per esempio Del primo EP Adesso ne siamo Lontani come periodo Quindi diciamo Lo posso dire Quello che mi è dispiaciuto È che Quelle non brani Che abbiamo scritto Tra il 2018 E il 2019 Poi c'è stata La pandemia Che ci ha fermato Completamente Quando siamo ripartiti Abbiamo pubblicato Quei brani Perché Suonavamo da diverso tempo E ancora non avevamo pubblicato niente Quindi abbiamo detto Ok ragazzi Pubblichiamo Semplicemente perché Così partiamo E in base a quello In base a come va Ci regoliamo Capiamo Capiamo come Come si fa Anche perché La musica Come tutte le arti Si studiano E si imparano facendo Però Ecco che Noi abbiamo pubblicato Nel 2021 Delle parole Delle sensazioni Delle canzoni Che rispecchiavano Noi Del 2018 Prima della pandemia Perché anche la pandemia Dal punto di vista Anche emotivo Cioè tutti quanti Toccato particolarmente A parte un brano Che è nato Poco tutta la pandemia Infatti Ci vogliamo rimettere mano Che Non lo diciamo Non lo diciamo Però Un brano Che è contenuto in QLP Gli altri brani appunto Non è che non ci rispecchiavano più Ma rispecchiavano Una parte di noi Che era un po' lontana E invece Quello che Che mi piacerebbe fare Far sentire Chi siamo adesso Questi brani Che abbiamo In cantiere Tirarli fuori Il prima possibile Per farli arrivare Al pubblico Le persone Quindi aspettando Che questo disco Cuscirà poi Tra un anno Però A questo punto Anticipo io Sarà soltanto Mondo virtuale O digitale Oppure Avrà anche Un parto Come noi Retro In formato Fisico Noi siamo Siamo legati Siamo legati Anche al mondo Fisico Sul digitale Quindi investiremo Quindi investiremo Soprattutto Da quel punto Di vista Lì E Quanto Tu hai detto Investiremo Sul digitale Quanto è Rischiare Di perdersi In un Spotify Dove Ogni giorno Escono Mille Duemila Tremila Diecimila Canzoni Che poi Tenendo presente Pure le produzioni Spotify Che fa In automatico Spotify Con la nuova Tecologia Della Intelligenza Artificiale Quando è il rischio Che un artista Possa essere Nel release Oggi Ma già domani Essere un dimenticatoio O quando No Lo è già È già È già un rischio È già una questione Cioè diciamo Che dal momento Che uno entra Nel mercato digitale Non è che Entra in concorrenza Tra virgolette Anche se non mi piace Pensare la musica In quel modo Però Non è che concorre Soltanto Col Col compare Con il conterraneo Cioè Compete ecco Con Dua Lipa Nel senso che Su Spotify C'è anche Dua Lipa Quindi Uno deve scegliere Che cosa ascoltare Ed è chiaro Che per un emergente Non è sempre facile Utilizzare Farsi notare Attraverso i canali digitali Però dall'altra parte Rispetto al fisico Al materiale fisico Si può viaggiare Più lontano Si può viaggiare Più lontano E si possono raggiungere Più Più persone Quindi diciamo Che ha i suoi pro E ha i suoi I suoi contro Chiaramente E a questo punto Io Tanto vi do appuntamento Per il prossimo brano Anzi Vi do appuntamento Alla fine dell'estate Così Ci raccontate Che cosa Come è andato Questa tournée Di live Ci raccontate Tutto il mondo Del live Che avete fatto Le emozioni I posti Che avete visitato In modo che ci raccontate Ci farete Partecipi Delle vostre emozioni A questo punto Ci mancano Due cose fondamentali Dove potervi raggiungere Gli indirizzi E come ha detto Un comico Non gli indirizzi di casa Ma gli indirizzi Sociale E I saluti finali Allora Ci potete ascoltare Chiaramente Sulle maggiori piattaforme Digitali Come Spotify O Apple Music E Per quanto riguarda Invece Gli indirizzi Social Su Facebook La nostra pagina Si chiama Likra Mentre su Instagram Likra Music Questi sono gli indirizzi Insomma Su cui ci potete trovare E i saluti finali Beh Grazie Dell'opportunità È stato È stato un piacere Ringraziamo In primis Te Pietro E Tutti gli ascoltatori È sempre bello Avere un Modo Un posto Per poter raccontare Raccontarsi Raccontare un po' Di cosa parla La propria La propria musica Perché a volte Ecco Non c'è Non c'è Lo spazio Adeguato Anche in alcune serate Magari non è la serata giusta Invece in questo modo Uno ha un modo anche di E anche appunto Di rispondere a delle domande Perché magari Quello che dico io Non è la stessa cosa Che una persona Mi chiederebbe Quindi è Uno scambio Che ci ha Sicuramente arricchiti Quindi grazie mille davvero E non vediamo l'ora Di tornare poi a settembre E raccontare appunto Come è andata Tutta l'estate Studio 7 tv E sport picciano game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della punta Ma io e te Siamo nati Presi male Siamo gatti neri In mezzo alla strada Quando Non sai Se attraversare Tanto è uguale Tanto già saremo tardi Con la sveglia Che non smette di suonare Un microfono davanti Sto pronto ad attaccare Trappi neppi e cenotti Non posso sbagliare Il rap è la mia droga La mia vita è il mio stare Pietro all'intervista Pronti a ricordare Le strade di questo sport Sono piene di ostacoli Ma la mia fede La mia passione Sono incredibili Studio 7 tv L'avventura è iniziata Le mie rime taglienti Come una lama affilata Le mie rime taglienti Come una lama affilata L'avventura è iniziata L'avventura è iniziata